in questo numero di turismo magazine nel 2023 aumentano le imprese del settore turismo organizzato ottimismo per il 2024 ma pesa il caro prezzi roma nuova luce per la critta di santagnese in agone in uno scenario economico caratterizzato da inflazione tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo ma non per tutti gli ambiti di attività oltre il 70 per cento delle 42 mila imprese registrate in più negli ultimi 12 mesi infatti opera in soli tre macro settori le costruzioni il turismo e le attività professionali è quanto emerge dai dati mov imprese sull'andamento della demografia delle imprese nel 2023 elaborati da union camere e infocamere sulla base del registro delle imprese delle camere di commercio il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto delle costruzioni che nonostante l'incertezza sulle prospettive dei bonus legati al mondo dell'edilizia che ha caratterizzato il 2023 alla fine dello scorso anno ha contato 13.541 imprese in più rispetto al 2022 bene anche le attività professionali scientifiche e tecniche trainate da un boom della consulenza aziendale e amministrativo gestionale anno positivo anche per il comparto della vacanza e delle attività immobiliari i settori più tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese per il commercio il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 8.653 attività coinvolto in particolare il commercio al dettaglio segno meno anche per l'agricoltura e la manifattura il 2024 parte con ottimismo per il settore del turismo organizzato malgrado alcuni elementi persistenti di preoccupazione l'indagine di fto federazione turismo organizzato di conf commercio presentata durante la convention 2024 dell'associazione a malta evidenzia come su un campione di circa 200 operatori aderenti il 45 per cento ritenga che l'anno in corso andrà meglio del 2023 solo uno su cinque invece si aspetta un peggioramento tracciando un bilancio delle festività appena trascorse il 39 per cento afferma che il periodo natalizio ha visto un miglioramento rispetto all'anno precedente dal punto di vista del giro d'affari mentre solo il 29 per cento crede sia andato peggio agenzie di viaggi e tour operator segnalano tuttavia un approccio diverso da parte del cliente nel post pandemia in particolare per la maggioranza degli intervistati il viaggiatore è più informato esigente e richiede servizi personalizzati il 38 per cento osserva che è aumentata la richiesta di sicurezza e quindi di servizi assicurativi aggiuntivi l'inflazione pesa e per un quarto degli imprenditori del turismo organizzato i cittadini che viaggiano si orientano di più verso opzioni a basso costo tra le motivazioni che fanno guardare al futuro con ottimismo si segnalano la fine delle paure legate al covid il ritorno alla voglia di viaggiare per qualcuno una migliore organizzazione aziendale o il boom di prenotazioni già in avvio di anno mentre tra le note negative pesano soprattutto il caro prezzi la compressione dei redditi delle famiglie e la difficile congiuntura geopolitica nuova luce su un gioiello storico e artistico nel centro di piazza navona a roma dopo aver attraversato quasi 20 secoli di storia la cripta di sant'agnese in agone recentemente restaurata è al centro di un nuovo progetto di illuminazione artistica e architettonica donato dal gruppo we build l'iniziativa ha permesso di restituire alla cripta la sua atmosfera intima e suggestiva grazie a un complesso gioco di luci e ombre la chiesa sorge sul luogo in cui secondo la tradizione nel 305 dopo cristo la dodicenne cristiana agnese subì il martirio durante le persecuzioni dell'imperatore diocleziano il progetto di illuminazione ideato dalla società faber tecnica e seguito dalla soprintendenza speciale di roma punta a valorizzare le caratteristiche spaziali architettoniche e artistiche della cripta la tutela delle opere è assicurata attraverso l'impiego di led sorgenti prive di emissioni uv e a bassa emissione di calore nel rispetto delle normative la donazione rientra nell'agenda cultura di we build in italia il gruppo sta realizzando 10 grandi progetti infrastrutturali in cui è impegnato in stretta collaborazione con le soprintendenze nella salvaguardia e valorizzazione di beni archeologici ritrovati come per la linea metro c sempre a roma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti